Non vogliamo un bagno di sangue ma la situazione non è più sostenibile. Il tentativo di fornire una versione passabile della realtà egiziana è del ministro degli esteri che all'agenzia ANSA promette di ripristinare l'ordine al Cairo. Se i dimostranti promorsi non saranno violenti chiuderemo la faccenda senza significative vittime e nel rispetto della legge, dice Nabil Fahmi che chiede alla comunità internazionale un'apertura di credito. Sapremo garantire la sicurezza dei cittadini e rilanciare l'economia, prosegue il ministro, mentre l'esercito ha per il momento sospesa l'annunciata prova di forza nei confronti dei sostenitori del deposto presidente Morsi e per il momento non sembra avere intenzione di intervenire nelle due grandi aree della capitale che ormai si sono trasformate in due accampamenti dei fratelli musulmani e fanno così da contraltare a piazza Tahrir, simbolo a sua volta della protesta che ha portato alla fine dell'era Mubarak e alla sollevazione contro Morsi. La piazza antistante la moschea di Rabah al-Adavia e la piazza al-Nakta ieri erano stracolme di gente e nonostante la scadenza dell'ultimatum i militari hanno evitato lo sgombero perché con ogni probabilità si sarebbe trasformato in un bagno di sangue. Adesso la strategia sembra essere cambiata, secondo alcune fonti. L'idea dei vertici militari è quella di chiudere e impedire l'accesso nelle due aree e poi lanciare ripetuti avvertimenti ai manifestanti che si trovano accampati chiedendo loro di ritirarsi. Un assedio che dovrebbe durare qualche giorno e fiaccare la resistenza dei sostenitori di Mohamed Morsi. Solo allora i blindati dell'esercito dovrebbero entrare in azione e completare l'opera di smantellamento dei sit-in, degli islamisti che però potrebbero far saltare il piano dei militari se dovessero decidere di resistere con ogni mezzo. A quel punto il bagno di sangue sarebbe inevitabile, l'Egitto precipiterebbe ancor più nel caos con buona pace delle rassicurazioni del ministro degli esteri.